ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale questo è l'ennesimo video informativo di un glitch dei soldi che potrete trovare nel link in descrizione ricordatevi di iscrivervi al canale iscrivetevi al canale youtube e niente ragazzi per questo glitch è tutto un saluto da maxi e al prossimo video